Buongiorno, ben ritrovati, ben rivisti per Occhio ai giornali. Siamo in diretta su Fano TV come tutte le mattine per mostrarvi i titoli principali che troverete nei giornali in edicola. Naturalmente noi osserviamo il resto del Carlino e Corriere Adriatico in edizione locale, le notizie che ci sono e che poi troverete naturalmente acquistando il giornale in edicola. Noi guardiamo anche il Santo del Giorno e facciamo un focus sulle previsioni del tempo come ogni mattina. Quindi iniziamo dall'Almanaco, vediamo che cosa ci propone oggi il calendario. Mercoledì 6 settembre, San Zaccaria, profeta, il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà alle 19.36. Previsioni del tempo, previsioni del tempo all'insegna un po' della variabilità, come vediamo e come è stato preannunciato nei giorni precedenti, nei giorni passati. Oggi il cielo è poco nuvoloso, in mattinata, con un graduale aumento della copertura nelle ore centrali ad iniziare da ovest, poi non si escludono locali a brevi piovaschi, verso sera però nel settore settentrionale le temperature in leggero aumento. Per domani invece, come dicevo prima, è stato annunciato una recrudescenza del brutto tempo, irregolarmente nuvolose, a tratti nuvoloso, con addessamenti più compatti nel settore però centro-settentrionale. Vedete che tutta la provincia di Peso, Rancone e anche l'interno della provincia, fortemente interessato dalle piogge, sparse tra l'altro nella tarda mattinata, localmente anche però a carattere di rovescio e di temporale, naturalmente le temperature sono in picchiata, in forte discesa. Per venerdì invece migliora un po', il sole rifà capolino in tutta la regione, sulla costa un po' di più, come vedete una nuvoletta soltanto sulla costa, mentre permangono due nuvolette, quindi un'intensità nuvolosa più marcata all'interno e quindi possibilità di locali fenomeni di maltempo nel settore centro-settentrionale. La tendenza per i giorni successivi della settimana, quindi verso il fine settimana, verso il weekend, tempo stabile, quindi nella giornata di sabato, però si annuncia un peggioramento, come vedete, nella giornata di domenica, quindi un fine settimana, un weekend all'insegna della variabilità, un giorno buono e l'altro brutto. Andiamo sui giornali che naturalmente fanno ancora un grosso focus sulla vicenda di Rimini e sui indagati, sui ragazzi del branco, sia su cronaca nazionale che su cronaca locale. Guardiamo il resto del Carlino. Nelle due pagine di cronaca nazionale che vi propongo, pagina 12 e pagina 13, riportate anche le motivazioni per le misure cautelari confermate. I giudici dicono che tutto il branco deve restare in fe, in cella, perché feroci e inutilmente spietati. E qui anche ripercorso tutto l'escursus di questa aggressione così selvaggia e violenta. E poi riportata la testimonianza in questa pagina, la pagina 13 della cronaca nazionale, di Luca, un ragazzo di 25 anni, di Pesero, che il giorno dopo, proprio in una spiaggia di Pesero, ha vissuto una brutta avventura, circondato da tre ragazzi insieme alla sua compagna, e sono fuggiti, hanno lasciato tutto lì, il cellulare e quello che avevano in tasca, perché abbiamo pensato ai fatti di Rimini ed erano stati circondati da tre neri in spiaggia proprio la notte successiva a quello che era accaduto a Rimini. E quindi adesso si indaga per scoprire se i tre che li hanno aggrediti, circondati e minacciati fossero proprio gli stessi che il giorno prima avevano fatto quello che avevano fatto nella spiaggia di Rimini. Però apriamo l'inserto pesarese, che riporta un po' la summa di tutto quello che ci sarà all'interno di questo inserto. Naturalmente, fotonotizia, fotocentrale, il viaggio dell'orrore, aggressioni, rapine, stupri, le immagini delle telecamere ricostruiscono la notte folle del branco, gli arresti convalidati restano appunto in carcere. Poi in testa di pagina, l'avventura brutta avventura di una consorte picchiata davanti ai figli dal marito perché lui è un tunisino quarantenne e dice siete troppo occidentali di fronte alle urla della donna. I vicini di casa hanno chiamato la polizia, strappato di dosso dalla bambina di cinque anni, un vestitino definito indecoroso. E poi pugno duro dei vigili che continua a Pesero, al semaforo di Via Rossi, un'altra sfilza di multe. e poi in piedi pagina una disavventura per una donna di Vercelli di 56 anni, il turista si sente male e muore, tragedia, in un metro d'acqua. Inutili i tentativi di rianimazione dei bagnini, dei bagnanti e del 118 che sono soccorsi in suo aiuto. Dicevo, cronaca nazionale, cronaca locale, ampie pagine dedicate a questo orrore, questa orribile vicenda. E anche qui, rapini, stupri e aggressioni. Folle viaggio dal porto di Miramare. Dall'una alle 4.45 si lasciano alle spalle una lunga serie di violenze e atrocità. La lunga notte del branco, appunto, qui in questo articolo, che ripercorre tutta la bravata di quella notte, di questi quattro che ora sono in carcere. E qui la violenza in famiglia, botte alla moglie, ai figlioletti, li vesti in maniera troppo indecorosa, dove i bambini dovevano parlare solo arabo. I vicini sentono urlare e sono stati loro, appunto, a dare l'allarme di questa ennesima violenza in famiglia. Il giro di vite dei vigili di peso sui ciclisti, niente più soste nel marciapiede, graffica di sanzioni della Polizia Municipale anche in via Nino Bixio, perché i ciclisti continuano, i marcescibili, a camminare sul marciapiede e anche i vigili continuano nella loro azione con le multe di dissuadere i ciclisti a questa pratica. Altre 17 multe, controlli e applausi. Due di loro sono passati anche con il rosso, dovranno pagare 169 euro rischio di sanzioni anche in via Branca, abitudine in veterata. Questa è dei ciclisti di passare con il rosso. A Fano, a Fano, il PD scende in campo per seri, tira un assist sull'area vasta che deve restare a Fano. Dopo l'intervento di Alberto Stocchi, critiche anche al sindaco Gambini. Può il rettore esprimersi sulla sanità pubblica in tutta la provincia? Questa è la domanda che si pone appunto il cronista del resto del Carlino. Seri al rettore, dice le decisioni, scrive al rettore dell'università, dice le decisioni le lasci a chi ha la competenza istituzionale. Il sindaco seri invita il rettore a fare il suo lavoro. La darsena borghese torna a splendere, sono terminati i lavori di restauro, grande impegno del Comune e dell'Associazione Nazionale Marinei d'Italia, che vedete qui ritratti orgogliosamente insieme al sindaco e al vice sindaco, dopo aver presentato la chiusura di questo grande lavoro, costato oltre 50.000 euro, tutto finanziato da loro e da privati per ridare lo splendore a questo splendido monumento della città di Fano, che è stato edificato nel 1600 e domenica alle 18, domenica questa alle 18, ci sarà il taglio del nastro. L'edificio si presenterà appunto spoglio, disadorno all'interno, non ci saranno né, a parte qualche divisa, comunque gli arredi dell'Associazione Nazionale Marinei d'Italia, proprio per far vedere a tutti i cittadini, e a tutti quelli che vorranno andare a vedere lì alle 18, lo splendido lavoro che è stato eseguito in questo bel monumento di Fano, in tutta la sua bellezza. Cambiamo testata, andiamo al Corriere Adriatico, le belve restano in carcere perché possono riprovarci, il GIP ai ragazzini accusati di stupro, per il GIP, i ragazzini accusati dello stupro hanno agito con ferocia e inutile cattiveria e poi qui al centro pagina invece foto per lo stadio Benelli che ha visto terminare i lavori, domenica ci sarà l'inaugurazione, stadio a Norma, ora può tenere 4.000 spettatori. E poi andiamo a Fano nella pagina di apertura perché in Via Nolfi, vandali in azione, il PD ora vuole le telecamere segnalati liti violenti, schiamazzi, danneggiamenti, insomma un territorio, quello di Via Nolfi, un po' così, preda dei vandali. Allora, la ferocia dei ragazzini, belve, definiti nell'articolo brutalità e inutile cattiveria, quindi il giudice scrive l'ordinanza con cui ha disposto il carcere per i tre minorenni che appunto, secondo il giudice, possono reiterare quello che hanno fatto. Allora, sicurezza, un tema che diventa sempre più caldo, il Comune aumenterà la videosorveglianza e lancia un appello, questa è l'area di Piazzale Matteotti che verrà videosorvegliata, le telecamere in piazzetta tra scuola e chioschi, perché proprio qui il Branco e Butungu si radunavano con altri soggetti e quindi è un punto caldo di ritrovo che va monitorato. Sabato prossimo, tra l'altro, a Vallefoglia un sit-in della Lega, ci sarà su temi come ius solis, accoglienza e case popolari, c'è tutta la mobilitazione del centrodestra su questi temi così caldi e attuali. E poi da Borgo Santa Maria, sempre nel Pesarese, i residenti alzano un po' la voce sulle presenze di extracomunitari, perché la protesta dei residenti a Borgo Santa Maria ha questo titolo, i profughi sono troppi, rischiamo di scoppiare e lunedì ci sarà un'assemblea pubblica, però la politica rimane fuori, nessun politico invitato a questa assemblea a Borgo Santa Maria sul tema dell'immigrazione, dell'integrazione e della presenza degli extracomunitari. Andiamo a Urbino con le pagine del Corriere Adriatico, si parla di riforma stop, fronte unico di sindaci e sindacati, lunedì convocata la riunione appunto per area vasta, si voterà per ascoltare le tesi di CGL, CISL e WILE, sul tema della sanità e dell'area vasta in Urbino. Durissimo, Baldelli, entroterra devastato, ora smantellamento anche sulla costa, se naturalmente si porterà l'area vasta a Urbino. E poi l'altro articolo che parla di sanità, a manchi di cassa, l'Asur si costituisce parte civile, la decisione per il processo che vede un ex dipendente di Cagli imputata di peculato. Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico, quello che c'era nel lancio di apertura per Fano e via Norfi, la via centralissima nel cuore di Fano, dove si chiedono le telecamere, interrogazione del consigliere fumante che interpreta il disagio dei residenti appunto raccolto per questa esigenza così sentita, così calda, che troverete nell'articolo di Massimo Foghetti raccolta in tutta la sua intensità. E poi una buca invisibile che miete vittime. È quasi invisibile, però molto pericolosa. Vedete, adesso qui cerco di ingrandirla il più possibile. L'immagine, vedete, c'è questa depressione, questo avvallamento qui, che è proprio ai piedi di questo involontario testimonia. Vedete, questo avvallamento che sembra così poco evidente, però crea grossi disagi a chi lo percorre. È stata segnalata, è proprio davanti alla sede centrale della Cassa di Risparmio alla Corte Malatestiana. Siamo proprio lì, davanti tra il teatro, tra il porticato del teatro e l'ingresso della Corte Malatestiana. Insomma, lì c'è proprio un avvallamento e chi è poco attento magari ci cade, perde l'equilibrio, soprattutto le persone anziane che passano di lì, magari per il mercato, per altre cose. Quindi attenzione, attenzione c'è questo avvallamento che, insomma, fa qualche danno e qualcuno anche di più. E poi, nelle pagine del Corriere Adriatico di Fano, ancora si parla di una bellissima avventura, si parla di sport, sport un po' estremo. Gian Battistoni, di 44 anni, di Fano, un operaio con moglie e due figli, con la passione di questo sport estremo, ha percorso, pensate, 170 chilometri con 10.000 metri di dislivello. Lo vedete qui, nella sua azione ha concluso l'ultratrail del Monte Bianco. Lo vedete qui in questa splendida immagine sulle Alpi, e mentre, appunto, compie questa impresa e dice lui sono stato bravo a finirlo e fortunato anche a farlo. Non basta qualificarsi, ma ci vogliono tante peculiarità. Sei giorni di gara, insomma, qui tutta la sua avventura raccontata nell'articolo di Andrea Amaduzzi. E poi, in testa di pagina, allagamenti, presto apprezzeremo i risultati. Assessore Aset, appunto, rivendicano tempi e modalità dell'intervento sugli scolmatori. L'ultima pagina, le penultime pagina, vi faccio vedere le ultime due, siamo un po' lunghi, ma ve le faccio vedere. San Lorenzo, sempre più trasparente e accessibile, siamo nella Val Cesano, il sindaco Davide Dell'Onti, mentre accede al sito web del Comune, online documenti e mappe urbanistiche. Ecco, l'ultima pagina che vi faccio vedere è quella di Senigallia, dove c'è un pezzo di cronaca, si scontra in giardino con il ladro e scatta l'inseguimento dei vicini. Pradona di casa esce, ma rientra subito dopo, dopo pochi minuti, si trova davanti uno sconosciuto e inizia a gridare, quindi dà l'allarme e si dà alla caccia insieme ai vicini di questo malintenzionato. E poi, in mattinata, i vigili hanno multato un furgone che aveva parcheggiato in divieto accanto alla villetta. Anche qui tutto l'articolo che racconta la vicenda. I residenti detective, quindi insomma le sentinelle del quartiere o della casa sono proprio i vicini e coloro che abitano accanto a noi, controllano gli aguzzini delle lucciole, sulla strada notano il mezzo con cui portano le prostitute al lavoro e quindi sono stati denunciati. Siamo in una strada di Senigallia dove cresce appunto il malumore dei residenti che adesso controllano sia gli aguzzini che le lucciole. Bene, questo era l'ultimo articolo che vi facevo vedere nel Corriere Adriatico, il resto del calino che vi ho mostrato. Grazie per essere stati in nostra compagnia, Occhio ai giornali termina qui ma tornerà domani mattina puntualmente alle 7.30 e questa sera il nostro telegiornale, Occhio alla notizia, alle 20.30. Grazie e buona giornata a tutti voi. Grazie.